Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi apriremo insieme i cuccioli Jack Amici Questi sono l'edizione Soffice Neve E questi sono il regno di Pocketville Questi non li ho mai aperti Adesso li apriamo insieme Allora per primo vorrei aprire questo E guardate c'è scritto serie cartone animato Magia Jack e i cuccioli Con la maglietta che cambia colore Maschetto femminuccia Contiene un cucciolo Una carta d'identità E un fanbook Andiamo ad aprirli insieme Ecco qui Credo che questo qui sia uno dei più rari Andiamo ad aprire Allora Oh che carino Lilla E dietro c'è scritto Mattia Per vedere se è maschetto femminuccia Bisogna guardare il colore del collarino Andiamo a vedere Andiamo a vedere Ah guardate qui Tigre Mattia o Lilla Poi questa sarà la checklist sicuramente Infatti Ci sono tutti gli animali Che credo si possano trovare Sì Andiamo a vedere se è un maschetto Una femminuccia Oh che Lilla sia una femminuccia Che carina Che carina È tutta bella pelosetta No è fatta benissimo Guardate Guardate che bella È pelosina pelosina Abbiamo trovato A Dove A Lilla Perciò andiamo a vedere Cosa ci dicono di lei La tigrotta Lilla È una sorellina di Mattia E la Vabbè ciao La tigrotta Lilla Che è la sorellina di Mattia È una cucciola vivace Anzi proprio scatenata Non è capace Di stare fermo un momento Proprio come suo fratello Deve sempre trovare Una nuova avventura Da intraprendere Una nuova attività In cui Impegnare Tutte le sue energie Qui ci sono ancora Quelle cosine Che parlano di lei Insomma È veramente carinissima Ed è fatta così bene poi Guardate che bella Non credete che somiglie A uno dei coccoli trudi Comunque Qui Questa è Lilla E adesso andiamo a vedere Chi ci sarà qui Cucciolo di giaccamici Soffice neve Include un cucciolo E la sua super slitta Carta di identità E libretto Con tutta la Con tutta la collezione Morbidissimi Morbidissimi Andiamo a vedere Chi c'è Da dove si apre Preghiamo Che bello Guardate Abbiamo trovato Cuffietta Andiamo a vederlo Insieme Guardate Questa è tutta la checklist Guardate che lunga E' troppo carina Allora Cuffietta Dov'è Cuffietta Forse Sarà Questa Altra Part Infatti Ce ne so Ecco Cuffietta Martora Delle Alpe Cuffietta Vivace E' una vivace Martora Che vive Nei boschi Di montagna Sapete Che ha Proprio Un bel caratterino Quando arrabbiate Infatti L'India Emette Borbocce E grugnete E se è in pericolo Strilla Fortissimo Andiamo a vederla Insieme Che meraviglia Guardate Che bella E non ha Il pelo Come lei Che è rasato Ce l'ha più Morbido C'ha pure il culetto Guardate Sto scherzando E' meraviglioso Spero di trovarne Altri Ne dico Sinceramente Non c'è più niente Dentro Sembra che no No Perfetto E questi sono I cuccioli Cerchemici Che abbiamo Trovato oggi Spero che Vi siano piaciuti E noi ci rivediamo Al prossimo video Ciao